Alghero si ritorna a parlare di mercati civici e si esprime così il gruppo di opposizione. L'amministrazione comunale destina almeno 700 mila euro dalle risorse che ha introitato dalla STEP, cioè dalle riscossioni, per il mercato civico. Non ci sono più scuse. Lo stato di abbandono dei mercati di Alghero ha ormai superato ogni limite, come testimoniano le lamentele degli operatori, che sempre più stanchi si sono rivolti alla stampa. Dopo due anni e mezzo di vuoto nel campo dello sviluppo economico, infatti, è più che comprensibile non avere più alcuna pazienza. Non c'è programmazione alcuna, non ci sono idee. L'assessore a leghista sembra vivere su Marte. Nel 2019, grazie all'azione dell'amministrazione di centro-sinistra, era stata avviata un'operazione di riqualificazione dei mercati, un investimento di 635 mila euro, con il rifacimento di tutte le facciate esterne su via Cagliari, via Mazzini, via Sassari e via Genova, che preludeva ad un intervento anche interno ben più ampio. Si era così dato avvio all'esecuzione di un restyling sul quale aveva puntato l'allora assessore alle attività produttive Ornella Piras. Nei cassetti del comune gli attuali amministratori potranno ancora trovare i progetti elaborati dagli uffici. Purtroppo, dopo che a giugno 2019 a Portaterra si è insediato il sindaco Mario Conoci, quei progetti sono stati completamente dimenticati e anche sui mercati è calato il germe dell'immobilismo. L'attuale delegata allo sviluppo economico, di stretta fiducia del sindaco e del gruppo sardista-leghista, dei mercati e di progetti di riqualificazione non si è mai occupata, se non con qualche vacua promessa poi caduta nel nulla cosmico. Nel mese di ottobre ha poi annunciato a gran voce un finanziamento di 100.000 euro in arrivo dalla regione, senza rendersi conto che la cifra è ridicola. Per non dire offensiva, servono subito risorse vere e immediata riqualificazione dei mercati civici, conclude il gruppo di opposizione.